Buongiorno a tutti, chiamo Optarotimila e... 9.000 E la di bella è la telecamera, il nostro gruppo. Di ciao! Ciao! Sapete, sta ancora imparando a parlare. Eh... No, vai, sta imparando. Allora, oggi vogliamo farvi vedere un gameplay del mondo 7 parte 3. Partiamo subito senza date discussioni. Perché sappiamo che il mondo 7 non è molto facile. Partiamo! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, mi dici quella frase che ce l'avamo detto prima, allora? Eh? Ma va là. Ma sì, dai. No, i nostri telespettatori sono ansiosi. Oh mio Dio! Via l'elica! Cacchio, no! Oddio, oddio. Vaffanculo. Eh, ma vaffanculo, ho sbagliato. E tu sbagli, sento. È la prima volta che ho detto una parolaccia nei video. Sì, ne hai detto e sì, se non ti ricordi. Davvero? Sì. Forse sono io che non ho sentito. No, sono queste perché le abbiamo fatti che erano vecchi. Vero? Ah, sì. Sì, l'ho presa anch'io alla faccia tua, Octar del cazzo. Oh, guarda che Octar è sempre meglio di Todd. Quello che dico non so neanche quello che sto dicendo. Prima Manetta Stella, eccola qua. Esatto. Che gira insieme a questi... Vai pure tu, vai. Che gira insieme a questi cazzi volanti. No, ma... Ah, lo sapevo! No, io ho rischiato, io stai invece no. Stai fermo. Oh, magari possiamo usare l'elica in modo... No, ah, già è vero, non funziona per tutti. Mia Super Mario Bros. Wii è un gioco veramente bello, quello dico. È uno dei super... Non mi aspettavo un Mario così bello come ho già detto. L'hai già detto l'altro video. Lo so, non lo so. Però, davvero, mi piace. Soprattutto a questi livelli qua, sono molto simpatici anche. Su, avanti. Vediamo se c'è l'elica. E trovati un lavoro, che roba. Altro che trovati un lavoro. Yeah, l'ho presa. Sì, ben, 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 ben. Oh, ragazzi. Avremmo intenzione di fare un let's play. Qualche let's play in futuro. Io ho Octar. Octar 9000, io no. Ma è già tanto se facciamo questi per me. Eh già. Però io avrei intenzione di farmi vedere qualche let's play. Perché sapete, io ho preso un po' da Domi LP 94. Avete presente quel ragazzo di 17 anni? Questa è la parte più difficile, ragazzi. Eh sì, è come... Mamma mia, che sfiga. Proprio questo dove ho... Emma Waffan. Prendilo, prendilo. Emma Waffan. Emma Waffan. Adesso tu basta che stai lì, che lui salta in aria. No. Ma questa sì che sfiga. Eh mio Dio. Oh mio Dio. Eh sì, ma questa sì che sfiga, caspita. Eh no. Porca miseria. Ma no. Banana. Che roba, eh. Sì, io sono un giovanoccio. E io invece sono un giovanoccio stesso. Luigi gay, Luigi gay. Gay Luigi. Gay Luigi. Arrola. Arrola. Luigi è fissato con gli spaghetti vaffan... Sei una cacca. Eh per forza, però sai. Io ho anche rischiato prima. Oh oh. Dai vieni. Mamma mia. Vieni, vieni. Sì, io mi vi muro someday!! Vieni normally, mamma mia!! Babamba mia!! Sì, ti siete energetici oggi eh!? Cosa? Ah dai, non sappiamo, è cosa.. È una bestia! Mamma mia! Vieni via via!! Va issyo Villaanna!!! Va vai dai! Si è l'erba, lì! Solta, salta giù! Mamma mia! Alla fine del video, prima di stoppare, mi lasci fare dire un commento LadyBella come sempre stoppi prima che lui finisca di parlare è vero però questo cade vero hai visto che azione che ho fatto per non farmi beccare anche adesso ok ah qua so io come fare vieni qua ci dobbiamo prendere bolla bolla vieni qua bollicino bollicino mio bene parto io vedi bella non stoppare il video subito amm se ne pensi che octar deve fare il suo commento del capo esatto lo dirò appena finiremo questo livello qua dai andiamo dai gago andiamo dai gago vai andiamo ok ok più un video è lungo più ci si mette di più ho caricato ok vado vai aspetta miseria ma che cosa devi fare caccare via un app un app anche se non ne ho bisogno vai con il tuo commento octar 9000 ok ecco qua appena dico il mio commento stoppio ok va bene vi ringrazio per aver visto un altro dei nostri fottuti video eh eh fottuti ciao 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 addio tante caccole tante